Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione! Oggi andiamo a vedere la torta di limone con una meringa svizzera, ovvero in francese si chiama tarte citron o lemon pie in America e semplicemente un guscio vuoto di frolla, una crema di limone o di limone, si fa stabilizzare e la meringa svizzera affiammeggiata. Su, su, su e andiamo su tutto il perimetro. Ok perfetto, un po' qua e poi questa. Lemon meringue, lemon pie, rostata al limone è terminata, fammi sapere come è riuscita la tua. Ci vediamo quindi per la foto finale e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!